Domenica In, Benetetta Parodi lascia la trasmissione? Il gossip di chi? Domenica In, Benetetta Parodi su tutte le furie lascia il programma? La rivelazione di chi? Benetetta Parodi. Benetetta Parodi non sembra essere assolutamente felice di come stanno andando le cose a Domenica In. La donna era pronta a condurre la trasmissione insieme alla sua amata sorella Cristina. In ogni caso, con il passare delle settimane, le cose sono un po' cambiate. Il nuovo capo progetto della trasmissione in onda su Rai 1 sembra aver modificato un po' i ruoli delle due conduttrici. A quanto pare, le mansioni di Benedetta stanno pian piano prendendo una piega diversa da quella che era sta accordata prima che prendesse il timone di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. Tutto ciò sta creando non poco scompiglio dietro le quinte. La parodi pare essere andata su tutte le furie, o così rivela l'ultimo numero del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini in edicola dal 20 dicembre 2017. Benetetta parò di pronta a lasciare Domenica In? L'indiscrezione. Sembrerebbe proprio che gli ultimi cambiamenti di Domenica In non siano affatto piaciuti a Bendetta. La sorella di Cristiana parò di pare essere molto arrabbiata, tant'è che si inizia a vociferare di un possibile suo abbandono. Il capitolo Cucina che le era stato dedicato è stato collocato in esterna, ritrovandosi però a subire continue riduzioni. Insomma, i patti iniziali non sembrano essere stati rispettati in pieno. Ma come mai? A questo punto, non ci resta che attendere e capire come andrà a finire questa spiacevole vicenda. Senza dubbio, l'abbandono di una delle due parodi sarebbe un duro colpo per il programma. Domenica In, Cristina parodi resta sola? Benetetta su tutte le furie. Mentre attendiamo di capire se il gossip lanciato dal settimanale chi verrà confermato o meno, siamo sicuri che la diretta interessata o chi per lei romperà il silenzio rivelando come stanno realmente le cose. Non è infatti da dimenticare che, nonostante i primi problemi di conduzione durante il debutto delle due sorelle, il pubblico ha apprezzato sin da subito questa bellissima coppia televisiva. Ciao! 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 Grazie a tutti